Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un'introvabile Volkswagen Tiguan alimentata a benzina, versione immatricolata nel giugno 2016, 1.4 TSI da 125 cavalli, con cambio meccanico, un unico proprietario precedente e soli 46.000 km originali percorsi, con manutenzione presso officina autorizzata Volkswagen. Questa vettura è in tonsa, non ha segni, è tenuta veramente molto bene, è di un colore Indian Grey metallizzato, abbiamo ruote in lega, cornice cristalli cromata e mancorrenti cromati al tetto, vetratura posteriore oscurata, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Inoltre questa macchina ha uno splendido interno veramente molto esclusivo, si chiama Pelle Vienna, il rivestimento, ha di base il marrone testa di moro e la parte centrale color panna con cordura marrone. Sedile di guida elettrico con memorie, sedili anteriori riscaldabili elettricamente, volante a tre razze sportivo multifunzione con cruise control e adaptive cruise control, quindi abbiamo anche l'assistenza alla frenata di emergenza, abbiamo il lane assist, quindi sistema che ci tiene in corsia, ecco i 45.900 km percorsi, tutto il monitor touchscreen con sistema di navigazione satellitare cartografico, naturalmente MP3, abbiamo anche l'app Connect, il climatizzatore automatico B-Zona, ecco il cambio meccanico, 6 rapporti, sistema start and stop automatico e il holder. Gli alzacristalli sono tutti e quattro elettrici e gli specchi ripiegabili. Vi mostro i sedili posteriori, veramente molto esclusivo questo interno, veramente strepitoso. Questa vettura è in pronta consegna, viene venduta con garanzia 12 mesi con possibilità di estensione. Vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.